Domenico Bosatelli è stato sicuramente un grande esempio, fonte di ispirazione per tutti noi, una persona di grande visione e soprattutto anche di grande determinazione e costanza nel perseguire i suoi obiettivi. Molto appassionato, molto entusiasta di tutto ciò che faceva, è iniziatore e promotore di tante iniziative. Io credo che la sua capacità di visione, la sua costanza, la sua coerenza nel perseguire gli obiettivi è sicuramente di esempio per tutti noi.